Benvenuti a tutti ragazzi in questo nuovo video Dopo tanto tempo sono riuscito a caricare un altro video Rumori di sottofondo come sempre Comunque, come dicevo, dopo tanto tempo ho ricaricato un altro video Solo che non so quanti ne caricherò Perché la connessione che ho fa 7 MB Vorrei portare a 20 MB ma non so se si può Secondo me si può, ma mi pare che continuo a dire di no E quindi vedrò cosa riuscirò a fare In base a quanto i video farò e quanto dureranno Boh, vedremo Comunque, oggi vi porto un video su Assassin's Creed Revelation E ho comprato questo gioco perché ne avevo un po' di astinenza Diciamo che l'ho comprato appena uscito Revelation Però per PlayStation 3 Soltanto che la PlayStation 3 mi si è rotta Quindi ho dovuto ricomprarlo per PC Sto giocando con i joystick della Xbox 360 E boh, devo dire che mi piace Perché comunque, come vedete, ho già fatto un salvataggio Sono al 15% E arriveremo fino a questo 15% E poi continuerò da questo salvataggio invece che da quello prima Adesso farò tutte le cose velocemente Non salto i video perché comunque magari voi li volete vedere È tutto Però comunque Vado abbastanza veloce Evito magari di far missioni secondarie Come assassina Un tot di nemici Dal campi di fieno Dai bordi Eccetera 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 Ma a bando le ciance No, volevo cambiare nome Stronzi Allora Vi faccio un piccolo riassunto Intanto che ci sono i video qua dietro Mi abbasso i video Ah no, c'è già riassunto Bene Allora Guardate La La grafica Come si è evoluta durante i giochi E' impressionante Qua siamo nel Due Sì No, questo è già i tre Questo è Praderwood Già Questa parte di Praderwood Qua di prima Questo Non lo so Non lo so Non lo so Però Questo è Questo È due È due È due Ah giusto Una cosa che non vi ho detto Se sentite Urli di sottofondo Che c'è la partita della Juve E mio fratello Appena fa Gollo Subisce gol Partono Sentono Anche i vicini Arrivano Ma che cazzo Urli C'è la Juve Ah ok Ora urlo anche io Fatta così i vicini Quindi sentirate anche i vicini Non posso far niente Così Questo è il posto Eh Esatto La mela Del La mela Del Se riesco Vi vorrei portare qualche video sui Unity Adesso che ci penso Mm Non lo so Sei il potere della mela Ah Ecco cosa non vi ho detto Ho cambiato microfono Lo volevo già utilizzare con macchinato Ma non ce l'ho fatta Non è stato divertente Anzi non è stato divertente Usare adesso E se lo siamo ancora Oh Non male la schiena Voglio la mia sedia nuova Che sei rotta Non è che montata Animus 2.0.3 La versione di Minecraft No Minecraft 8.0 Ah no 1.8 Offline Whiteroom Offline Ancestore sync Offline Lo d'ex Safe mode Offline No Non è offline Non è neanche online però Il nostro Animus Che succede? Non riesco muo Non è che abbia fatto tanto un bel riassunto In effetti Ha parlato più o meno della storia di Ezio Sì di Ezio Di Desmond Principalmente Eccolo Eccolo Non mi piace come hanno fatto Desmond In questo gioco E' strano E' niga niga E' un Douglas Se ne sono Se ne sono Mi sa di no Ci sono le barba a vetere di zucca C16 Dove C18? Me la voglio scopare No io voglio C18 Rebecca Tirami fuori da qui Rebecca Adriana No io sono Rebecca A pezzi A pezzi A pezzi Come nei puzzle Come sta a voi Ehi E guardami Questo qui Poi andremo avanti nel gioco Che diventa sempre più pazzo Non mi piacciono queste parti Infatti L'unica cosa che mi metteva in dubbio Di comprare Questo gioco E' proprio queste parti qui Delle animo Quando ci giocavo Mi ricordo che mi mandavano Intiti il cervello Siamo nel cuore dell'animus Nel programma sperimentale Niente ricordi Qui solo Sembro il gobbo Di dottre dam Ciao mondo Fammi entrare Fammi entrare Fammi entrare Stavo già partendo Non so da quanto sto registrando Devo attivare un cronometro Porca gloria Mi dimentico sempre Di attivare un fattuto cronometro No Tavo promettermi Il programma di registrazione Qua sopra La scritta Stai registrando Da un tot di minuti Se ne esce che Praticamente Sai a fase digestiva Delle persone Tu guardami negli occhi Non mi dare le spalle Sai Quello E quindi La Poche parole La cacca No La In modo più veloce E fare la cacca Tu dici a quello Che ti ha mangiato Di fare la cacca E vedi che Verrai espulso In una maniera Astronomica Quando mai è stato Qualcosa normale Animus Tramela De Geeden Spada De Geeden Spoilerato No Spada De Geeden Non è qua Su Unity Per chi non ci ha giocato Io spoilerato E Bastone dell'Eden Che era in Braderwood Oddio Mi dispiace Non ero io Tutte scuse Tutte scuse Tutte scuse Sì sì Sarei Sarei impossessata Di te Quante volte Ci sei andato a getto Con Junon Non lo so Però Che sto facendo Ma che cazzo ne so Che cosa ho fatto Ma che cazzo ne so Ok Fammi entrare Bravo Saita Saita Bene E dopo questo video Che non so neanche Se vi metterò Perché Tra la colonna sonora Copiretata E il Sali Tra la colonna sonora Copiretata E il Il Cacapupu E questo E il Video cinematografico Non so Se riesco a farvi A caricarvi Anche in quella parte Noi seguiamo Altair O Altair Segurà noi Tutto Dipenderà Da chi è più veloce Per ora È più veloce Altair Sta parlando di me Ah No Non si è capito Che è arrivato prima Ecco le lame Pronta Spada Siamo pronti Ok ragazzi Ho avuto un problema Tecnico Ma pazienza L'abbiamo risolto Non era importante Picchiamo Picchiamo Ecco Oh L'ho ucciso Attaccate Alleluia Madonna Santa Non l'ho visto E' quello che Come cazzo è morto Questo è morto Perché è morto Però andiamo avanti Un due Un due Un due Un due Arrivo prima io Wee I believe I can fly I believe I can touch Sky Non sono sonato Per chiunque lo stia dicendo Sono più veloce Sono più veloce Sono più veloce No Non sono più veloce Però Questa Siamo Agile Pensate a buttarsi da qua L'altra volta stavamo pensando Eravamo a Pinerolo E abbiamo detto Pensate a fare come fanno a tagliare gli altri C'era una chiesetta Un attore Ok Di nuovo un problema tecnico L'era crashata tutto Ah giusto Che devo seguire Anzi no Perché devi seguirmi Marta Lo preso dal culo Soppivo Mi sono andato addosso Poveraccio E' più corto Spendere Dove si va? Dove si va? Eh si però dimmi dove si va Ah era da l'altro Però mi ricordavo bene Mi ricordavo Arrivo prima io Ci sono arrivato prima Su Questa cosa mi sono chiesto come cazzo Abba abbia fatto a saperla Cioè se non funzion- Non avesse funzionato sarebbe morto Sì che si chiama volo della fede però chi c'è questo giro per vedi qui che ti uccido sì certo fosse domani quando sarò più stanco appena sveglio però non oggi l'oro signor missione adesso uccidiamo tutti i primi sì però devo fare il peggio massacro sì bella mira guarda ok direi che così facciamo decisamente prima che fare tutti gli assassini dall'alto bene ora parlo con te abbiate pietà vi prego sono un lavoratore ho famiglia ho famiglia mia famiglia fa le kebab mia famiglia fa le kebab senza di me ora e scavare per cercare la ricetta di kebab tu vuole le kebab io prendo kebab tu vuole le kebab tu paga kebab io prenderei kebab fare le kebab prepara la kebab e donna le kebab preziosi di tutto l'oro del mondo ah intendete dire gemme gemme no sei proprio indeficiente ci sono delle serrature qui dove sono le chiavi cercando il tuo culo no eh quanto stiamo registrando 11 minuti no facciamo ancora perché contando le cose tagliate è tutto non ci arriviamo a 11 minuti torna a casa a 15 stop mi piacerebbe andarmi mi piacerebbe andarmi prendi le attrezze e mettiti su per il culo e poi vediamo se non va di più stronzo va bene vado grazie metterò anche le monete per il super il culo bravo fai bene così ti dai una svegliata so più veloce guarda come cammina da frocia ah giusto se hai messo le cose su per il culo minchia però hai fatto in fretta eh devo dire hai fatto in fretta si sai t'asciughe porte lui ok andiamo e basta sai t'asciughe porte pali palazzi so che ti piacciono i pali però l'assassino non deve mettere le mani